Il circolo del PD di Sassa lancia una proposta strategica per la zona ovest presentando il lavoro frutto di quattro anni di ascolto, inclusione e elaborazione collettiva. Ci siamo dati questo metodo, ha detto il presidente del circolo Querino Crosta, di partecipazione e contaminazione. In più, tecnicamente abbiamo proceduto con metodo analitico, accanto ad ogni criticità, a fianco una proposta. Nei prossimi mesi presenteremo, ha detto, un tassello per volta, continuando ad alimentare il dibattito che continua ad essere soffocato, dice Crosta. Noi ci siamo dati un metodo sin dall'inizio. Il nostro metodo è stato questo, ascolto, confronto e sintesi d'insieme. Un movimento sicuramente di comunità. Quello che noi abbiamo voluto dimostrare alla cittadinanza, all'amministrazione, alle parti politiche, è che per fare partecipazione e per fare militanza politica non basta presentarsi una volta ogni tanto all'attenzione delle persone, declamare le proprie buone intenzioni e poi raccoglierle nella lista dei desideri. Uno degli argomenti più dibattuti è quello della variante di Sassa, il cui accordo di programma è stato presentato nei giorni scorsi da comune e provincia, ma anche su questo il circolo locale pone le debite precisazioni. A loro giudizio c'era un tracciato che loro avevano presentato e che, pressoché simile, evitava la frammentazione dei campi, sfruttando percorsi rurali esistenti e generando spazi pubblici di cui qui si è drammaticamente privi sul territorio. Per loro, invece, il comune propone un percorso che da molti era stato rigettato, oltre alla viabilità, e hanno proposto anche una sorta di variante costarelle per valutare se due rettilini di preturo possano essere collegati con una parallela per il traffico pesante che possa evitare incidenti mortali come quelli che si sono verificati negli ultimi tempi. Uno dei problemi del territorio ovest a Sassa è quello della mancanza di spazi pubblici con edifici abbandonati. L'ex SERCOM potrebbe essere riutilizzata per loro per ospitare la Scuola Nazionale dei Vigi del Fuoco, vista la posizione strategica e vista la presenza del progetto case di Paiare, che potrebbe essere Campus per gli allievi, una proposta che volta il rilancio economico dell'area, collegando il nucleo con uno sbocco autostradale in zona Gensano-Colle Fracido. Per loro sarà essenziale anche la realizzazione di un parco urbano verde nello spazio dell'ex Scuola Media a Sassascalo, ormai in disuso, con la valorizzazione di un parco fluviale sul tracciato del radio e un percorso ciclopedonale. Altro problema, quello della raccolta differenziata, che loro chiedono da tempo sul territorio e in orte, c'è la vecchia questione degli sversamenti fognari a cielo aperto. Tutte criticità con relative proposte, ma soprattutto ribadiscono un metodo fatto di ascolta e condivisione con le comunità, cose che, secondo il circolo locale, l'attuale amministrazione comunale non fa.